Paul, Labil, Pogba e Angel Di Maria. Buona domenica a tutti ragazzi, ciao, ben ritrovati sul canale. Allora, è strano perché di solito il weekend abbiamo dei video diversi dal solito da fare, cioè parliamo della probabile formazione, parliamo della squadra che andiamo a affrontare, ci prepariamo appunto a giocare una partita che in questo momento è un po' particolare, è un po' bizzarro pensare al gioco, però proviamo a immergerci. Invece questa è una domenica vuota, priva di sentimenti e di emozioni, lato Juventus, poi stasera per dire c'è un derby di Milano molto molto interessante da vedere, anche se ai noi non centriamo quasi niente anche con un eventuale risultato, a meno che non si incastrano robe, ma queste sono soltanto speranze e forse da un verso e dall'altro, insomma ricorso e stipendi, speranze inverse probabilmente. domani inizia ad essere giornata in cui stiamo a respirare un pochettino l'aria, perché domani c'è la conferenza stampa di presentazione di Saleritana e Juventus, e poi martedì, martedì, così andiamo a giocare la nostra partita di Serie A, che Allegri ha già definito scontro diretto ed effettivamente, guardando la classifica come abbiamo già detto il giorno dopo Juventus-Lazio, è oggettivamente così, perché Juventus e Saleritana sono praticamente attaccate e distante pochissime posizioni l'una dall'altra. Però ho iniziato il video dicendovi Paul Abel Pogba e Angel Di Maria, due calciatori che dovevano essere i due campioni, due fuoriclasse, in grado di risollevare la Juventus quelle due pedine qualitative che l'anno scorso sono mancate alla Juve per cercare lo strappo finale verso un titolo. Ora, la situazione si è complicata, e lo sappiamo, e non poco, è una situazione diversa da quella che ci si poteva immaginare sia durante la campagna acquisti, sia nella scorsa stagione quando pensavamo, è però l'anno prossimo cerchiamo di far meglio, ed è una situazione in completo divenire. Ogni momento che passa, lato campo, abbiamo... non so neanche cosa dire, ma stiamo provando tutti le stesse sensazioni, bene o male, quindi forse è anche superfluo tornare a ribadire certi concetti che ho già espresso in più di un'occasione. E niente, Pogba e Di Maria. Due giocatori che appunto dovevano, ma che non hanno fatto. Due campioni del mondo, uno Pogba nel 2018, uno Di Maria proprio in questa stagione indossando la maglia della Juventus con annesso gol in finale. Due giocatori che, per un motivo o per un altro, non sono stati così impattanti nel progetto Juve, due giocatori che in questo momento sono al centro di vicende di mercato, in senso opposto. Perché? Tanto dico subito perché probabilmente la Juve gioca martedì. E questo secondo me è un grosso indizio di quello che stiamo andando ad affrontare. In seconda battuta, perché? Perché per Pogba si vocifera addirittura una recessione consensuale del contratto, per Di Maria si ipotizza addirittura un rinnovo di contratto. Pogba che è arrivato all'Eventus con quattro anni, Di Maria che è arrivato all'Eventus con un anno, Pogba che usufruisce il decreto crescita, Di Maria no, perché non è un contratto biennale e quindi sono situazioni anche diverse dal punto di vista economico. Di Maria non prende tantissimo, intorno ai 5-6 al massimo milioni di euro. Pogba invece ne prende 8, ma con il decreto crescita il lordo di Pogba e il lordo di Maria sono circa la stessa cifra, intorno ai 10-11 milioni di euro. Comunque cifre importanti, soprattutto per la Juventus di oggi, anche perché la Juventus potrebbe pagare delle multe molto salate, qualora venisse resa, venisse battezzata colpevole, non so qual è il termine tecnico, qualora fosse riconosciuta come colpevole. Quindi attenzione che lato economico anche potrebbero esserci delle multe molto salate. C'è anche questa voce che dice Juventus eventualmente fuori dalla borsa, chissà! Magari Juventus uscirà pure dalla borsa, ma in quel caso va a sborsare altri soldi. Quindi non lo so, non credo che questa possa essere la strada, anche perché da quanto ho capito Exor e quindi Elkan non ha previsto altri aumenti di capitale nel breve. Forse saranno necessari, in caso di multe molto salate, lato stipendi. Vedremo, chi vivrà vedrà, lo scopriremo solo vivendo. Però Pogba e di Maria sono due calciatori che ad oggi sono stati quasi astratti nella Juventus di concreto, c'è stato poco e niente. Vi dico subito che credo che siano appunto voci perché la Juventus non sta giocando e bisognava comunque riempire quegli spazi, quei momenti per discutere di Juventus. Io stesso lo sto facendo in questo momento. Probabilmente non avrei parlato di questo oggi, no? Perché non c'era una notizia per. Anzi, avevo banalmente deciso di trascorrere una venica di relax e di riposo in famiglia e invece, dato che ho letto queste voci, ho detto proviamo a commentarle. Quindi vi dico, già in primis io sono abbastanza dell'idea che queste cose vengano fuori soltanto quando non si gioca effettivamente a calcio e bisogna comunque parlare di Juve. Perché parlare di Juve, lo sappiamo in un modo o nell'altro, tira sempre. E tanto. E tanto. Ci sono dei giornalisti che sono tifosi dichiarati di altre squadre che sulla Juventus ci hanno costretto una carriera. Lo sappiamo bene. E questo, da parte di chi sta cercando di prendere il patentino di una giornalista, è un incentivo. Perché se questi hanno fatto giornalismo di professione per anni significa che forse il livello non è proprio così alto in alcuni spazi, in alcuni frangenti. Quindi per me è un incentivo. E se è uno schifo che è un incentivo. Pogba. Pogba alla Juventus non ha preso benissimo la sua volontà di fare la terapia conservativa, di optare per la terapia conservativa per provare a giocare il Mondiale. Non ha preso benissimo. Pogba è stato convocato nella partita del campionato contro il Monza. Pogba ora le prese con un nuovo infortunio e vedremo se sarà disponibile con la serenità nasce o no. Ma Allegri l'altro giorno te l'ha fatto capire. Ti ha detto chiaro e tondo navighiamo a vista vediamo cosa succede. Magari Pogba ce l'ha in forma tra due o tre mesi. Ormai dobbiamo ascoltare il suo corpo. Dobbiamo ragionare che ha bisogno di tempo. E quindi credo che bene o male la stagione di Pogba non sia finita ma quasi con zero minuti disputati al momento. Di Maria invece è un caso diverso. Di Maria è un giocatore che comunque il suo quest'anno lo sta dando. Nel senso che comunque delle presenze le ha fatte. Magari non sempre a titolare. Magari da subentrato come è accaduto in Coppa Italia. Qualche gol, qualche assist. Devo dire la verità da Di Maria comunque mi aspettavo di più. Ma questo è un mi aspettavo di più generale. Probabilmente che parte dall'allenatore e che arriva poi ai singoli perché pure da Allegri mi aspettavo qualcosa di più. Nonostante una stagione complicata e dove in Serie A prima della penalizzazione si era comunque arrivati a un punto in cui si poteva iniziare a respirare un'area diversa. Poi le cinque pappine prese a Napoli i quindici punti di penalizzazione è iniziata un'altra parte di stagione che di sportivo ha poco e niente ma dobbiamo cercare comunque di parlarne. E quindi quel mi aspettavo di più in questo momento viene quasi messo in stand-by perché è cambiato tutto. È il discorso che facevo prima non vorrei tornarci sopra ma poi nelle analisi per forza di cose deve andare a toccare certi tasti e non si torna più indietro un cortocircuito del ragionamento. Siamo in un vicolo cieco. Ma va bene d'accordo. Quindi da Di Maria comunque probabilmente lato io mi aspettavo di più io credo che possa dare ancora di più di così. Credo che Di Maria sia un giocatore molto molto forte e credo che probabilmente la Juventus con anche Pogba Di Maria Blaovic con Chiesa magari recuperato prima avrebbe potuto dimostrare qualcosa di più e forse lo stesso Allegri avrebbe potuto dimostrare qualcosa di più. Non credo che Di Maria vorrà rinnovare il suo contratto con la Juventus per due motivi. Il primo non sappiamo quale sarà il nostro futuro. Giocheremo in Champions League giocheremo in Europa League giocheremo in Conference League giocheremo in Serie A senza obiettivi giocheremo in Serie B per la risalita? Non lo so non ho idea in questo momento pure Rabiot per dire che un altro giocatore in scadenza c'è un punto interrogativo io credo che Rabiot la mamma di Rabiot stia comunque parlando con altri club nel frattempo aveva abbozzato un discorso con la Juventus qualche settimana fa non si è più saputo niente e quindi verosimilmente starà ragionando così come Quadrado così come magari Alexandro anche se anche Fabiana ci aveva confermato questo ipotetico rinnovo automatico del contratto insomma ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto che probabilmente in questo momento non stanno pensando alla Juventus non si stanno immaginando nella Juventus lo stesso Di Maria Di Maria che da tutta estate ci ha detto ragazzi un anno e poi torni in Argentina mi ricordo un po' la storia di Tevez Tevez voleva per forza concludere al Boca che l'aveva lanciato Di Maria vuole concludere a Rosario in realtà poi Tevez dopo che l'abbia dato al Boca è andato a fare esperienza in Cina dove era stato strapagato poi è tornato al Boca successivamente però bene o male quello è l'input quello è il disegno quello è il ragionamento che fanno questi giocatori sudamericani che vogliono dare riconoscenza al club che poi li ha lanciati e li ha resi grandi nel calcio mondiale no? secondo me è anche un ragionamento molto onesto e Di Maria è stato molto onesto sin dall'inizio perché la Juventus è stata tutta estate offrire un biennale Di Maria è stata tutta estate a chiedere un contratto di un anno perché Di Maria voleva fare questo e quindi il tifoso può dire magari gli importa poco certo ma dall'altra parte deve anche dire che Di Maria è stato coerente con la sua idea e non ha voluto per forza di cose firmare un contratto tanto per poi andare a ringraziare e complicare la trattativa io voglio fare un anno voglio farmi il mondiale con una squadra europea e poi voglio tornare all'argentina quindi difficilmente secondo me Di Maria andrà a rinnovare è vero che anche l'altro giorno quando è stato intervistato nei post partita ha iniziato a parlare della famiglia ha iniziato a parlare di Torino ha iniziato a parlare della Juventus quindi con i discorsi però mi sembrano tanto parole di circostanza perché non puoi dire a gennaio o febbraio e magari in questo momento maggior ragione sì va bene a Juventus però io comunque torno in Argentina quello succederà al 90% per quanto mi riguarda ma ci sta che non lo dica ai microfoni è giustissimo così anche nel rispetto della squadra dell'allenatore e dei tifosi così come non credo che la Juventus voglia rescindere il contratto con Pogba anche perché per rescindere il contratto con Pogba ragazzi banalmente bisogna dargli la buona uscita perché Pogba perché mai dovrebbe dire d'accordo altri treni di contratto ma poi non darmeli me ne vado io mi rimetto sul mercato vai Pimenta trovamene un'altra non lo farebbe mai non venitemi a dire perché per riconscienza per amore per rispetto perché ci credo poco queste sono storielle sono favole e lo stesso Pogba quando c'è stata l'occasione di andare in una squadra diversa dalla Juventus quando è andato allo United non si è fatto scrupoli quindi Pogba comunque è un calciatore che chiangue un po' furbo ma non furbo è in maniera negativa è furbo in maniera maliziosa come deve essere un calciatore che va alla ricerca di contratti diversi poi per quanto mi riguarda non è stata furba la scelta di Pogba di andare allo United ma questo è un altro discorso la Juventus ci ha puntato per quattro anni e secondo me è sempre sbagliato dire dopo una stagione nemmeno una stagione che il colpo è stato un flop perché poi magari Pogba tornerà o magari no ma vale il discorso per Di Maria non sappiamo ancora dove giocheremo quindi magari ci sarà un'uscita di calciatore se la Juventus nemmeno si qualificherà alle coppie magari si salverà per un punto di 5 punti 10 punti quello che sarà magari il Pogba di turno verrà lì a dirti sai cosa voglio essere ceduto o voglio rescendere il contratto e non dovrai riconoscermi a buona uscita perché sono io che te lo chiedo allora in quel caso magari sì magari il Di Maria di turno non gli verrà nemmeno in mente di poter rinnovare banalmente quindi secondo me oggi è un po' prematuro parlare di queste cose io lo dico sempre quando la gente mi parla dell'allenatore mi dice ma secondo te l'allenatore Allegri secondo te l'anno prossimo io l'ho già detto secondo me Allegri non sarà l'allenatore della Juventus secondo me no ma non credo nemmeno che la Juventus oggi sia lì a interrogarsi e dire oh ma l'anno prossimo panchina che ci mettiamo perché oggi la Juventus ha altre priorità e non pensa al lato campo non pensa al lato sport non ci pensa e quindi non può pensare nemmeno a come allestirà la squadra il prossimo anno perché non sa quali obiettivi avrà per cosa dovrà lottare in quale competizione europea se ci sarà o in quale competizione nazionale perché può succedere veramente di tutto in questo momento è una tripla 1x2 può succedere tutto poi se devo andare nel dettaglio per quanto mi riguarda è molto più probabile un Di Maria che non rinnova e addirittura magari un Pogba che rescinde per quanto io la ritenga una mossa che in questo momento la Juventus non sta prendendo in considerazione proprio perché magari ci sarà bisogno di risparmiare magari ci sarà bisogno di tagliare degli ingaggi magari ci sarà bisogno di calciatori diversi magari ci sarà bisogno di costruire una squadra differente magari ci sarà anche un allenatore che avrà bisogno di una squadra diversa dal Pogba che c'è o non c'è e gli preferirà un altro tipo di calciatore o magari preferirà far crescere un giovane al 100% come può essere Nicolo Fagioli Fabio Miretti o un altro che verrà su o dalla next gen o che arriverà dal mercato quindi ogni allenatore ha anche il suo modo di intendere il calcio negli allenatori magari che la Juventus potrebbe addirittura avere un allenatore non di status internazionale non un nome all'Allegri non un allenatore da milioni di euro all'anno ma un allenatore come può essere io vi ho fatto il nome di Tudor potrebbe essere italiano potrebbe essere Dionisi potrebbe essere De Zerbi questi allenatori che comunque sono in fase emergente che lavorano con quello che hanno non hanno grosse pretese economiche e comunque possono creare del patrimonio per la Juventus possono creare il valore che uso un po' la frase del Lega in conferenza stampa e magari uno come Pogba che è un giocatore invece di status internazionale caratura mondiale il nome possono benissimo farne meno anzi non gli serve forse addirittura va contro quella che è un po' l'idea e l'esperienza la carriera che gli ha portati poi a questi livelli a essere anche solo presi in considerazione per allenare la Juventus quindi vediamo perché secondo me oggi si può dire qualsiasi cosa si può dire anche che l'anno prossimo prenderemo Messi si può dire che pagheremo la clausola di Bappé si può dire che andremo a giocare in Serie B e quindi svincoleremo tutti si può dire che andremo in C e quindi la next gen verrà utilizzata come prima squadra sperando che possa essere promossa in B in questo momento si può dire qualsiasi cosa in questo momento vale tutto e vale niente quindi vediamo che cosa accade io sono dell'idea che Di Maria l'anno prossimo non giocherà nella Juventus sono dell'idea che Pogba potrebbe giocare nella Juventus poi se succede qualcosa potrebbe pure eventualmente rescindere il contratto in questo momento paradossalmente gli unici al sicuro sono davvero i giovani davvero loro quelli che hanno rinnovato quelli che stanno crescendo quelli che sono arrivati nella next gen quelli che sono arrivati in prima squadra quelli secondo me sono molto più al sicuro alla Juventus in questo momento proprio perché da chi riparti se hai bisogno di tagliare i contratti grossi da quelli che hanno contratti piccoli e sono in rampa di lancio e la storia di Claudio Marchese dovrebbe insegnarci qualcosina ci vediamo domani ragazzi buona domenica